Per fare questo momento, ma di me, per aspettarti, ma di me, 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 ma di me. In un'altra cassa, in un'altra cassa, in un'altra cassa, in un'altra cassa, in un'altra cassa. Per mai, ma chi sarai per fare questo a me? No, ti intendo ad aspettarti, ad aspettare me. Di qui, come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Di qui, chi sarai per fare questa cassa, in un'altra cassa, in un'altra cassa, in un'altra cassa, in un'altra cassa.